Supportare le strutture ospedaliere polivalenti sul territorio attraverso l'implementazione dei servizi e dei macchinari. È questo l'obiettivo di un progetto portato avanti da associazioni benefiche come Consulcesi Onlus e AISIC, i cui sforzi congiunti si sono indirizzati, proprio di recente, per aiutare gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Con il supporto delle due organizzazioni, il suo reparto pediatrico è stato appena dotato di attrezzature nuove di zecca. Questo è uno strumento di lavoro che ci permette di completare, qui nel pronto soccorso, nell'ambito del pronto soccorso, il percorso dell'assistenza pediatrica. Ogni volta che otteniamo, in questo caso donazione, comunque riceviamo degli strumenti che ci permettono di fare meglio, in modo più appropriato, quello che quotidianamente le nostre unità operative sono chiamate a dare agli utenti, ai pazienti. È ovvio che questo ci riempie di gioia, perché per primi noi, per primi gli operatori, non sono dispiaciuti di quando dobbiamo erogare prestazioni o comunque assistenza in ambienti o con strumentazioni o con arredi che non siano i migliori possibili. Abbiamo cercato tutti insieme di creare delle strutture, dei percorsi che siano anche sì polivalenti, ma di eccellenza per le varie linee di attività. In questo territorio poi, quello dei litorali in particolare, in realtà è l'unica struttura di rilevanza che può in qualche modo, devo dire in maniera puntuale, efficace, dare adeguata risposta a quella che è la domanda sanitaria, che d'estate poi per l'afflusso di turisti aumenta notevolmente. L'ospedale di Anzio è l'ospedale che ha più numero di accessi pediatrici degli ospedali dell'H, che abbiamo totalizzato quasi 8 mila accessi di pronto soccorso nell'ultimo anno. e questo richiede quindi una particolare attenzione a un tipo di popolazione che bussa alle nostre porte, che chiede assistenza nel momento delicato, nel momento critico. L'iniziativa di ISIC e di tutti i suoi amici, in questo caso dicevo anche la Consulcesi perché è stato un appoggio fondamentale. L'ISIC è qualche anno che è nata, perché è nata in realtà nel 2003, ma sono due anni, questo è il terzo anno in cui porta avanti questo progetto tutto con un sorriso, che contrariamente agli anni precedenti in cui ci sono stati progetti sociali di tipo spot, ha deciso di fare di questo progetto un fil rouge che l'accompagna negli anni e che la connoti in un certo senso nell'ambito della solidarietà.